Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi parliamo dell'aggettivo qualificativo e quindi continuiamo con le nostre lezioni di grammatica. Prima però lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. La parola aggettivo viene dal latino adjectivum che significa che si aggiunge. Infatti, l'aggettivo si accompagna al nome e lo specifica. Iniziamo parlando dell'aggettivo qualificativo che dà al nome una particolare qualità. Può essere usato con quattro funzioni. Quella attributiva, quindi con valore di attributo. Quella predicativa, quella sostantivata, ne abbiamo già parlato nel nome, degli aggettivi, dei verbi, quindi tutte le parole sostantivate, quindi che vengono utilizzate come sostantivi. E con funzione avverbiale. Allora, l'aggettivo ha funzione di attributo quando precede o segue il nome del tipo. Hai davvero delle amiche intelligenti? Intelligenti è un aggettivo qualificativo con valore di attributo. Ho visto un vecchio film. Anche qui è un aggettivo qualificativo con valore di attributo. L'aggettivo, però, va prima o dopo il nome? Cambia qualcosa? Sì, cambia. Perché ha due valori diversi. Quando noi lo poniamo prima del nome, ha un valore descrittivo. Per esempio, l'ordine. Mettiti le tue belle scarpe. Ho un'esclamazione. Questo aggettivo, in questo caso, descrive, no? Le scarpe come sono belle. Invece, dopo il nome, ha un valore distintivo. Mettiti le tue scarpe belle. Cioè, proprio quelle le distinguiamo dalle altre perché sono le scarpe belle. Ha, invece, una funzione di predicato quando si collega al nome per mezzo del verbo. Per esempio, la vacanza è divertente. Voi vedete la vacanza, che è il soggetto, è, che è, appunto, la copula. E poi troviamo qui, e quindi è un verbo, divertente. Quindi, la vacanza è divertente. Trovate l'aggettivo divertente, che è collegato al nome tramite la E. Oppure, il treno correva veloce. Anche qui abbiamo il treno, al soggetto, correva, predicato verbale, veloce. Il treno, veloce, correva sui binari. La funzione sostantivata l'abbiamo già vista nelle lezioni di grammatica sul nome. Quando noi abbiamo un aggettivo, per esempio, dolce, ma ci mettiamo un articolo davanti, un articolo determinativo, noi gli diamo valore di sostantivo. Mi piace il dolce, mi piace il salato, mi piace il rosa. La funzione, invece, avverbiale, vediamo che l'aggettivo si trova dopo il verbo e ne modifica il significato. Non è collegato al nome, cioè come voi distinguete tra la funzione predicativa e la funzione avverbiale, che nella funzione predicativa è collegato al nome per mezzo del verbo. E in quella avverbiale, no. L'aggettivo. Forma e concordanza. L'aggettivo può essere invariabile o variabile. Per esempio, rosa. Rosa è un colore, noi non diremo le gonne rose, ma la gonna e le gonne sono rosa, quindi non varia nel genere e nel numero. Oppure, lei è proprio una ragazza chic, loro sono delle ragazze chic, non variano. Invece, variabile, abbiamo le tre classi dell'aggettivo. Quindi la prima classe, con gli aggettivi che escono in O e hanno quattro forme, alto, alta, alti, alte. La seconda, dove escono in E e hanno due forme, forti e forte. Non abbiamo forta e non abbiamo forte, inteso come plurale. Terza classe, poi escono in A e abbiamo solo tre forme. Egoista, egoisti, egoiste. Entusiasta, entusiasti, entusiaste. Non entusiasto, non esiste. Ma come fare con la concordanza? Perché, vabbè, io dico una maglia rosa, tutto a posto. Ho due maglie rosa, è invariabile. Però, nel caso in cui io, per esempio, abbia un aggettivo che si riferisce a due nomi, ho indossato maglietta e gonna nere, in questo caso. Quindi vediamo che concorda nel genere e nel numero. Però, nel caso in cui io abbia una parola al maschile e una al femminile, l'aggettivo sarà maschile o femminile? In questo caso, maschile. Per esempio, mi piacciono melone e anguria, non fredde, ma freddi. Perché si riferirà, di fatto, ad entrambe le parole, ma noi terremo conto del maschile. Questa è una regola della grammatica italiana. Quindi, fino a quando non verrà messa in discussione, semmai dovesse essere messa in discussione, ma fino ad ora noi dobbiamo procedere così. Quindi, melone, anguria, freddi. Ci riferiamo al maschile. L'aggettivo qualificativo ha tre gradi. Positivo, comparativo e superlativo. Dovete pensare che il grado positivo non ha termini di confronto, del tipo Luca è bello. Non ci interessa rispetto a chi è bello, punto. Grado comparativo, invece, abbiamo il comparativo di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza. Quindi, più alto di, meno alto di, alto tanto quanto. Il grado, invece, superlativo può essere relativo a qualcosa, fino a una parte, oppure assoluto. Vedete qui, nelle pubblicità si utilizzano tantissimo gli aggettivi, no? Gli aggettivi qualificativi. Vedete qui, permaflex, il famoso materasso a molle difende il tuo riposo. Vedete qui, l'aggettivo famoso, l'aggettivo qualificativo, è posto prima di materasso. E ha un valore, quindi, descrittivo. Oppure qui abbiamo la giovane, scattante e sicura, no? Ford, Fiesta. Quindi, vedete qui che viene definita giovane, scattante e sicura la macchina. Quindi, con questo trittico di aggettivi qualificativi, che la distinguono dalle altre macchine. Come vi dicevo, il grado comparativo, vi lascio questo schema che potete ricopiare sul quaderno, è piuttosto semplice, no? Abbiamo la maggioranza, la minoranza e l'uguaglianza. E quindi ci sono delle formule, no? Con cui noi rappresentiamo queste comparazioni. Invece, il superarlativo è un po' più interessante. Noi possiamo utilizzare dei suffissi. Se non sapete che cos'è un suffisso, andate a vedere il video sulla formazione delle parole. Il suffisso,issimo, bellissimo, errimo, celeberrimo, entissimo, efficientissimo. Oppure possiamo anche utilizzare molto bello, assai bello, tipico del meridione, peraltro. Oltremodo bello, ma anche dei prefissi. Arci stufo, ultra liscio, tipico delle piastre per capelli, strabello, extra lusso, extra forte, penso alle pubblicità. Per esempio, vedete qui, no? Nelle pubblicità si utilizzano tantissimo i superlativi. Le insalatissime, canzonissima, altissima, purissima, levissima. Qui vediamo come il linguaggio è importante anche nella pubblicità. Il superlativo può essere inoltre anche relativo, no? Il più veloce di voi, il meno simpatico. L'animale più fedele, per esempio, potrebbe ingannarvi, potrebbe dire, beh, ma è un assoluto. In questo caso c'è un sottinteso, cioè l'animale è il più fedele, sì, ma di chi? Di tutti, no? Quindi comunque è un relativo. Vedete anche qui di nuovo delle pubblicità. Chi prova il bianco dash sta con dash. Dash più bianco non si può, no? Quindi è il più bianco di tutti, è un po' un sottinteso. Oppure arriva il gioco più buono del mondo. Anche qui, no? È relativo, chiaramente. Il più buono del mondo è lo sparacramelle. Abbiamo poi dei casi particolari. In certe grammatiche li definiscono anche casi speciali, no? Ci sono dei comparativi speciali e dei superlativi speciali che vengono dal latino. Il comparativo di maggioranza di buono è migliore. Non è più buono, ma migliore. Il comparativo di maggioranza di cattivo è peggiore. Il comparativo di maggioranza di grande è maggiore, no? Maggiore di piccolo abbiamo minore, alto, superiore, no? Quindi è basso invece inferiore. I superlativi assoluti, no? Abbiamo ottimo rispetto a buono. Certo, nelle pubblicità diremo anche buonissimo. Cattivo, pessimo, grande, massimo, piccolo, minimo, alto, sommo, supremo e basso, infimo. Spero che questa super veloce lezione vi sia piaciuta. Al prossimo video! Al prossimo video